good morning anche se direi buon pomeriggio perché qui è l'una e cinque mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's february seven 2022 and it's monday here in naples a dark cloudy morning 51 and eight fahrenheit around 11 celsius and this means that si è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni e in questo periodo anche se come sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo fatto qualche settimana fa per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare ma non di vincerlo perché è impossibile ma quanto meno di combattere il freddo sì per quanto riguarda il video sui pensieri credo lo faccio sempre separato da questo come da inizio anno insomma ormai non posso dire disafternoon avremo questo tipo di temperatura lì perché ormai è già pomeriggio essendo l'una quindi come ha visto come avete visto tutti come già detto all'inizio cloudy totally cloudy nuvole completamente grigie tendenti verso il nero anzi sta proprio piovendo quindi precisiamo troppo che dire chiedo proprio che le cose non cambino auguriamoci a questo punto che domani sia un giorno completamente diverso per cui said this so from the mythical window with the recorded curtain ringraziando l'inquadratura che la rende un po più bella ma niente di che and it's green roller shooter and finally from my mythical keyboard di amadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people who follow the channel and the reports su un saluto veramente a tutti un saluto particolare oggi a nikki williams ti ringrazio il commento di ieri non so se poi risponderai ma comunque ti ho risposto vedi un po grazie quando mi risponde quando mi commenta una donna è sempre un particolo un onore particolare per me qualcosa di diverso che considero le donne più importanti di noi uomini insomma è anche oggettivo questo su e che ne ha a great day in nikki ever great day and everyone to